Novena a Santa Teresa di Calcutta. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Introduzione Gesù, la luce da accendere Una volta Madre Teresa assigurò così coloro che avevano abbracciato la sua stessa vocazione. La Madre è qui per aiutarvi, per guidarvi, per condurvi a Gesù. Sta giungendo il momento in cui anche la Madre dovrà ritornare a Dio. Allora la Madre potrà aiutare di più, ciascuno di voi, guidarvi di più e ottenere più grazie per voi. La missione di Madre Teresa nel condurci alla luce di Gesù e nell'aiutarci a essere la sua luce continua ancora. Ciò che lei ha scritto anni fa si realizza in modo ancora più efficace oggi, poiché lei intercede per noi dal cielo. Prego che ciascuno di voi sia santo e diffonda così il suo amore, ovunque vada. Accendete la sua luce di verità nella vita di ogni persona, in modo che Dio possa continuare ad amare il mondo attraverso di voi e di me. Come pregare Dio ci attende sempre nel silenzio. Dio è amico del silenzio. Fermatevi e sappiate che io sono Dio. Create silenzio dentro voi stessi. Nel silenzio del nostro cuore, Dio ci parla del suo amore. Con il nostro silenzio, consentiamo a Dio di amarci. Dio ci attende sempre nel silenzio, per parlarci e per ascoltarci. Elevate a Dio la vostra mente e il vostro cuore. Nonno giorno La santità è Gesù che vive e agisce in me. Consumiamo noi stessi con Lui e per Lui. Lasciate che Lui guardi con i vostri occhi, parli con la vostra lingua, lavori con le vostre mani, camini con i vostri piedi, pensi con la vostra mente e ami con il vostro cuore. Non è questa una perfetta unione, una continua preghiera d'amore. Dio è il Padre amorevole. Lasciate che la vostra luce d'amore risplenda così intensamente di fronte agli uomini che vedendo le vostre opere buone, il lavare, lo spazzare, il cucinare, l'amore verso marito e i vostri figli possano dare gloria al Padre. Pensiero del giorno La carità reciproca è la via più sicura per una grande santità. Chiedi la grazia di diventare santo. Santa Teresa Ottienimi dal cuore di Gesù questa grazia Si espone la grazia Uniamoci a tutti i nostri fratelli e sorelle nel mondo che soffrono nell'oscurità e nella sofferenza e recitiamo la preghiera a Santa Teresa di Calcutta Santa Teresa di Calcutta Gesù ti ha chiamata a portare la luce del suo amore a coloro che vivono nelle tenebre mediante la tua delicata e amorosa sollecitudine per i più poveri e i più bisognosi Tu sei diventata il segno della presenza di Dio del suo amore e della sua compassione nel mezzo del dolore e della sofferenza Seguendo il tuo esempio aiutaci a riconoscere il volto di Gesù nei nostri fratelli e sorelle che soffrono e a servirlo con umiltà e gioia insegnaci ad essere portatori dell'amore tenero e misericordioso di Dio così da testimoniare che Dio ancora ama il mondo attraverso ciascuno di noi Amen Cuore Immacolato di Maria causa della nostra gioia prega per me nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Santa Teresa di Calcutta prega per me Gesù è il mio tutto in tutto